Motivi personali, familiari e lavorativi esplicati in una lettera protocollata nella mattinata di lunedì. Antonio Martina, ingegnere, lascia la poltrona di assessore all'ambiente del comune di Francavilla Fontana incassando il ringraziamento del suo gruppo consigliare IDEA e quello della stessa amministrazione guidata dal sindaco Antonello Denuzzo. Si tratta dal momento dell'insediamento di Città Futura del primo addio che inevitabilmente porterà ad un nuovo ingresso e si pensa ad un allargamento della coalizione. Martina con ogni probabilità sarà sostituito da un esterno, secondo i soliti bene informati, indicato dal Movimento 5 Stelle che in consiglio è rappresentato dal consigliere Giuseppe Ricchiuti da tempo allineato sulle posizioni della maggioranza, ma bisognerà anche parlare con i fittiani di Direzione Italia. Questione di numeri, si vedrà. Martina con l'insediamento dell'amministrazione Denuzzo aveva guidato il settore dei lavori pubblici, poi con la delega passata nelle mani del sindaco era stato limitato per così dire all'ambiente. Lascia dopo quasi tre anni di lavoro qualche merito, eppure tante, tante critiche, specie da parte delle opposizioni. In bocca al lupo.